Tu hai preso la squadra della guida head coach l'anno scorso e la squadra aveva fatto vedere dei miglioramenti, cioè show some improvement, my English is not so good. Quest'anno però c'è questo brutto periodo, tante sconfitte, tu pensi di cambiare qualcosa nell'allenamento, nel gioco degli aironi, adesso ci sono due o tre sfide in venti giorni molto importanti, sono due gare controviso, c'è il CONNACT penso 7 gennaio in casa, ecco. Pensi di cambiare qualcosa nel gioco? Io non so, come affronti? Ma io quando in casa solo io ho domande per io, uguale, perché io... Ti fai delle domande, certo. Sì, perché io ho visto strutture bene, ho visto settimane bene per preparazione. Sì. Ma una situazione per la scorsa stagione, ma la mentalità è sempre difesa, ok? L'anno scorso. L'anno scorso, scusa. Sì. Adesso anche giusto, è importante per strutture e attacco. Adesso due cose, prima fase, ok, ma due cose molto importanti adesso per cambio, ma io guardo possibile, adesso non cambio molto velocità, difesa, attacco, difesa, attacco. Ah, cioè gli aironi fanno fatica a passare dall'attacco alla difesa? Sì. Ok. Anche se... Io guardo prima, sì, errore, ma errore, sei un errore in attacco, ma problema per difesa. Errore in difesa, problema per... Adesso ma strutture uguali, anche preparazione più bene la scorsa stagione. Attacco e strutture bene, ma tu guardi secondo tempo contro Alster, tu guardi partite contro Cadeff, partite contro Edimburgo, ma abilità in squadra per giocare, tu guardi partite contro Glasgow, anche partite contro Munster, perché gioca tanti minuti in Munster, non metta. Insomma, ma abilità per difesa, anche abilità per attacco. Adesso ma più importante per cambio, cambio gioca, ma cambio mentalità quando difesa attacco. Ma attacco bene, ma attacco struttura bene, difesa bene, ma adesso possibile meno di controllo palla, migliora il controllo palla. Ah, migliora il controllo palla, sì. Anche più composure, tranquillo quando in difesa, perché adesso io guardo troppo errori per persone in linea difesa. Scimolare... Sì, ma avanti quando stai in linea. Ah, ho capito. Io non sicuro, io rispondere a tua domanda, perfetto, ma... Ecco, io chiedo questo, tu dici ci sono le abilità nella squadra, però se guardiamo i risultati, la differenza, la differenza tra gli Aeroni e le altre squadre, gli altri team, è grande. Il numero, almeno nei numeri, è grande. Secondo te, quanto tempo ti serve agli Aeroni per ridurre il gap? Ok, ma... Ok, io non voglio... No, non so... No, io non voglio seduta qui per tanti alibi per questa situazione, ok? Ma una... Adesso quando arriva un Clermont, perché Clermont è un momento molto brutto per Aeroni. Sì. Ok, prima gioco contro Munster fuori Glasgow a casa. Sì. Ok, ma non bene bene, ma ok. Ok, uguale a livello. Ma arriva un Clermont. Sì. Ma un momento brutto, ok? Brutto. Perché confidenza e tutti gli altri. Vero. Ma tante altre squadre, arrivo e Clermont, la stessa. Era una serata difficile per tutti. Sì. Ok. Anche un'altra... Quando dopo partita, un festa grande in Clermont, per un cento... Anniversario. Cent'anni, sì. Lui... Lui è un giornalista per parlare con me. Scusa, ma... Ma... Festa molto molto grande stasera, perché... Cent'anni. Sì. Ok, ma festa per Aeroni. Perché... Un anno sei mesi. Ah. Cioè, c'è differenza... Sì, sì, sì. Sì, sì. Ma... Ma... Troppo differente possibile in... Ma troppo differente in tante altre cose. Sì. Perché è un club molto molto giovani. Giovani. Sì. Ehm... Anche... Continuare adesso per... Creare... 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 Identità. Identità chiaro per tutti. Scusa. Scusa. Lei o Zaffanella? Giocare lo Zaffanella può aiutare l'identità della squadra? Sì, ma... Ma... Scorsa stagione sicuro tutti pensi squadra difesa. Ok? Adesso... Cioè, anche difendevate e basta. Sì. Anche... Ma... Ehm... Difendere sei... 65% di partita. Sì. Ok? Ma... Adesso... Per... Per... Difesa... Meno... Attacco... Per difendere di meno devi tenere più palle e attaccare di più. Sì. Adesso per... Per cambio tutti... Sì. Ma quando gioca... Ehm... Ehm... Sì. Cioè pensare di tenere la palla e cosa fare con la palla immagino. Sì. Per l'identità ai ruoli. Ah. Non sempre difesa, ma squadra per quando con palla gioca, quando non con palla difesa bene. Difesa, certo. Siamo appunto vicini a due gare contro Treviso. Tu avrai guardato ehm... Ehm... Come... Cosa... Cosa dici di Treviso? Come vedi questa squadra? Che sta giocando bene in Pro 12 o no? Sì. O buoni risultati io penso. Sì. No, no. Sì, ma... Adesso ma... Eh... Ma Treviso... Sì. Gioca bene, ma anche vincere fuori... Fuori... Fuori casa. Fuori casa. Fuori casa. Ehm... Vincere contro Biaretz in casa. Ehm... Pari con Ospreys. Sì. So... Molto bene, ma... Ehm... Se squadra bene... Buona. Anche gioca bene o buona? Gioca bene. Gioca bene. Buona squadra, gioca bene. Anche gioca bene. So quando loro arrivo qui venerdì... Sì. Ma... Ehm... 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 I favorite. I favoriti? I favoriti, sicuro. Perché adesso... Loro gioca bene. Molto... Vincere bene. Vincere fuori casa. Ehm... Ma... Prima squadra... Italia squadra in Pro 12... Ehm... Per 4 metri in partita. Erroni contro... Erroni, vero? Cardiff. Sì, contro Cardiff. Ok, insomma... Ma una cosa... Sì, sei davanti a loro. Ok, insomma. So... Quando arrivo... Ehm... Loro... Più... Eh... Favorite, favorite. Loro sono favoriti. Ah. Anche Erroni continuare il lavoro. Mmh. Continuare il lavoro. Ehm... Ehm... Anche... Io so... Ehm... Ehm... Un'altra volta. Tanti... Tanti giocatori sono a Roma. Sì. Sì. Credo. 18 giocatori. 18? Mmh. Viaggi come sta? Che abbiamo visto uscire... Eh... Io molto... Molto triste per lui. Perché... Ehm... Io guardo... Persone... Ehm... Giocatori. Lavoro molto bene in estate. Anche... Adesso... Quando ho potuto giocare... Gioca bene. Ma... Ultimo minuto... In partita... Lui... Problema con il ginocchio. Sì. Io non so... Esatto... Ma... Possibile... Possibile... Un mese... Un mese di out? Senza viaggi. Possibile. Eh... Io spero... Meno. Ma... Io non so... Adesso... Scanna oggi. Deve fare... Eh... Ok. Cosa... Cosa ci dice. Ragazzi... Il tempo... È scaduto. Eh... Grazie Alessandro. Scusa se ti ho rubato spazio. Ma... Avevamo... Ospite... Il coach. Eh... Grazie di essere stato con noi. Grazie. Scusa ma... Mio italiano non... Non... Bene ma... Tu italiano meglio di... Meglio di mio... Inglese. Sicuro. Eh... Grazie in bocca al lupo per... Venerdì. Grazie ancora Alessandro. E grazie a voi di averci seguito. Ci rivediamo la settimana prossima per una puntata un po' speciale di Pallovale visto che appunto siamo sotto Natale. Grazie ancora e buona serata a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.